Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, l'apertura del notiziario è dedicata al saluto rivolto oggi dal presidente del Tribunale di Gela Alberto Leone agli amministratori locali. Il magistrato lascia la città per Caltanissetta dove presiderà la seconda sezione della Corte d'Appello e il suo posto sarà ricoperto da Paolo Fiore su cui il CSM ha già espresso voto unanime in commissione per il quale si attende il placet definitivo del Ministero di Grazia e Giustizia. Vediamo. Lascia dopo sette anni il presidente del Tribunale di Gela Alberto Leone. Presiderà la seconda sezione penale della Corte d'Appello di Caltanissetta. Il suo posto sarà preso a Gela da Paolo Fiore che attualmente ricopre il ruolo di presidente facente funzioni. Questa mattina Leone ha voluto incontrare gli amministratori locali per porgere loro il saluto di commiato. In questi sette anni il magistrato ha lavorato a Gela, per Gela e con Gela. Io vado via con grande gioia perché il Tribunale mi è cresciuto molto in questi anni grazie anche al lavoro di squadra che abbiamo fatto con tutti i nuovi magistrati e anche col personale di cancelleria e devo dire che sono veramente soddisfatto. In altre occasioni ho detto che nel passato questa città ha sofferto molto per tanti motivi ma ora lo Stato è presente e ho detto che il Tribunale è la casa dei diritti del cittadino. Una casa nella quale il cittadino gelese può entrare fiducioso che può veramente attuare le proprie stanze di giustizia. Ai nostri microfoni il sindaco Angelo Fasulo. Con il Tribunale ovviamente c'è stata la voglia di vivere insieme la vita della città che cresce scelte importanti ma io vorrei sottolineare il grande lavoro, la vicinanza del Presidente che come magistrato ha mostrato di essere veramente eccezionale sia nell'impegno, nella qualità, nella presenza, nella vicinanza. è stato sicuramente per noi e continuerà a esserlo in altra sede un grande magistrato ma come uomo ha vissuto il periodo di permanenza a Gela da amico delle istituzioni, amico della città. Poche volte si vede questa vicinanza, questa spontaneità e valori importanti come quelli che ha portato lui a Gela. Un impegno non solo per il Tribunale ma per l'intera città. L'intera città oltre che tutti noi diciamo per questo grazie al Presidente che viene trasferito in altra sede sapendo che tornerà sicuramente a visitarci, tornerà perché è fin troppo legato alla città di Gela e al Tribunale anche perché devo dire tanto, tanto lavoro che ha dato grandi risultati lascia qui e quindi sono sicuro che la città e il Tribunale lo chiameranno magari per qualche incontro nelle prossime settimane e nei prossimi mesi e sono sicuro che verrà con grande piacere. Critiche all'amministrazione comunale di Gela giungono dal candidato sindaco Lucio Greco che in una nota punta l'indice sulla giunta per l'appalto relativo al servizio di illuminazione. Un appalto, scrive Greco, da 44 milioni di euro per 20 anni affidato alla CPL Concordia. Quest'ultima è finita nel ciclone giudiziario nell'ambito di un'indagine che vede 11 indagati, 9 dei quali arrestati, tra cui il sindaco di Ischia. Con sullo sfondo un sistema corruttivo molto più ampio e diversi filoni di indagine ancora da approfondire. Quando era venuto a conoscenza, dice il candidato sindaco, che dopo l'acqua si privatizzava, anche l'illuminazione pubblica aveva protestato pubblicamente e vibratamente con interviste televisive e con comunicati stampa invitando l'amministrazione a bloccare questa iniziativa per impedire che i cittadini gelesi, dopo l'amare esperienza di Caltacqua, diventassero succubi e schiavi di un'altra società privata. Mi sembrava, oltremodo sbagliato, che una giunta cosiddetta di sinistra dopo l'acqua avesse la faccia tosta di privatizzare anche la luce. Mancava di privatizzare soltanto l'aria e la frittata era fatta. Scoprire adesso che a vincere l'appalta è stata la Concordia mi inquieta ancora di più. Cambiamo argomento. Parliamo di sanità. Il manager dell'ASP2 di Caltanissetta, Carmelo Iacono, interviene in merito alle azioni che interessano il presidio ospedaliero Vittorio Emanuele Di Gela. Sentiamo. L'utin dell'ospedale Vittorio Emanuele Di Gela presto sarà finalmente avviata. L'azienda sanitaria provinciale numero 2 sta facendo anche l'impossibile per garantire l'operatività dell'unità di terapia intensiva neonatale. Lo dice a nostri microfoni il manager dell'ASP, Carmelo Iacono. C'è il progetto esecutivo pronto e all'esame degli organi di controllo competenti che ci devono dare le autorizzazioni appena avremo i pareri di questi organismi competenti, ad esempio Vigile del Fuoco, noi metteremo in gara il progetto e speriamo che se lo aggiudichi una buona ditta e quindi speriamo che i lavori possono andare immediatamente a termine in modo da averli penso per la fine di dicembre. Il tutto se il percorso burocratico non viene ostacolato da ricorsi o da altri tipi di blocchi. Però manca sempre il personale. Sul personale stiamo preparando la determinazione delle piante organiche di tutta l'azienda sanitaria. Vedremo se in questo contesto riusciremo a trovare le risorse per il personale dell'utine altrimenti abbiamo l'impegno dell'assessore che ci aiuterà per aprire quest'utine con delle risorse aggiuntive. Iacono interviene anche sui lavori che interessano il pronto soccorso. Dovrebbero essere consegnati i lavori alla fine di giugno quindi se rispettano questi tempi immediatamente prenderemo operativo questo nuovo pronto soccorso. Qualche settimana dietro a Gela, al Teatro Comunale Eschilo, alla presenza del Governatore Crocetta e dell'assessore alla sanità Borsellino, si è svolto un convegno su criticità e prospettive della sanità nella provincia di Sena. Qualcuno l'ha definito una passerella politica. Iacono non ci sta. Se è una passerella politica l'avere acquisito l'impegno sia del Presidente che dell'assessore di dare un finanziamento accessorio per questa zona franca che comprende 110.000 abitanti e che dovrebbe consentirci di allargare la fascia degli screening anche a patologie che non fanno parte degli screening standard. Acquistare attrezzature nuove, ristrutturare determinati locali proprio per renderli più recettivi e qualitativamente più validi. Quindi aver acquisito un impegno del genere, allora io sarei ben felice di fare passerella politica ogni giorno. E' stata riaperta questa mattina al traffico la bretella Borsellino a Gela. Sono stati ultimati nelle 72 ore previste i lavori di realizzazione della paratia posta protezione delle terre armate e dopo gli interventi di pulizia della sede stradale. L'importante arteria viaria torna ad essere fruibile dagli automobilisti. La realizzazione della paratia è stata voluta in via del tutto precauzionale per garantire l'incolumità dei cittadini che percorrono giornalmente la via Borsellino, ha detto il sindaco Angelo Fasuro. Il monitoraggio avviato a febbraio va comunque avanti e nel frattempo in accordo con il Genio Civile si sta procedendo alla realizzazione di un progetto esecutivo che consente un intervento risolutivo in tempi brevi. Dei dati acquisiti finora attraverso i rilievi topografici, ha aggiunto l'assessore alla protezione civile Carmelo Casano, non risulta comunque che ci sia alcuna dinamicità nei punti monitorati. I residenti del centro storico di Gela, lamentando un peggioramento della viabilità ed un aumento dell'inquinamento dovuto all'elevato numero di automobili circolanti e alla cronica impossibilità di trovare parcheggio in tutto il centro cittadino, al sindaco chiedono di allargare le zone parcheggio con strisce blu dove i residenti possono sostare gratuitamente con un pass. Un'automobile a famiglia disporre gli abbonamenti soltanto per i residenti, possessori di più autoveicoli a prezzi politici, evitare la vendita di abbonamenti a basso costo e non residenti o in alternativa concederli fuori dal perimetro del centro storico. Il presidente del comitato di quartiere del centro storico, Giuseppe Filetti, chiede inoltre l'aumento progressivo dei ticket per la sosta, far funzionare il parcheggio arena con la presenza di personale 24 ore al giorno, con il costo del ticket che dovrebbe essere decisamente più basso rispetto al costo degli spazi del centro e maggiori e più severi controlli sulla sosta gratuita a tempo. Attivare urgentemente degli incontri finalizzati ed attuare interventi risolutori al fine di scongiurare il declino dell'attività petrolifera industriale in Sicilia con relativa chiusura dell'Enimed, così come è avvenuto per la stessa raffineria di Gela. E' quanto chiede al ministro dello sviluppo economico, al presidente della regione siciliana, alla sindaco di Gela, alle organizzazioni sindacali del territorio e all'amministratore delegato dell'Eni, la rappresentanza sindacale unitaria di Enimed S.p.A. Ieri, durante una riunione, sono state analizzate le problematiche collegate al piano industriale denominato Upstream Sicilia, presentato dai vertici di Eni e sindacati, con la firma posta il 6 novembre scorso presso il Ministero dello sviluppo economico alla presenza della regione Sicilia e del comune di Gela. L'Enimed, a fronte di un organico di circa 230 addetti, che garantiva, come sostenuto ai tavoli sindacali e prefettizi, l'equilibrio economico e finanziario della società, ha incrementato l'organico ad oltre 500 addetti, senza però nessuna prospettiva industriale che giustifichi l'incremento del personale. La RSU sottolinea che al momento nessun piano industriale Upstream Sicilia, con informazioni di dettaglio, così come promesso prima, durante e dopo il tavolo ministeriale, è stato presentato alle rappresentanze sindacali unitarie e né alle organizzazioni sindacali. Nonostante la promessa prima, durante e dopo il tavolo ministeriale, che prevedeva la stesura di un organigramma con posizioni e ruoli per l'attività futura, nulla è stato illustrato o comunicato alla RSU. Anzi, l'atteggiamento seguito dall'azienda, si legge in una nota, è stato quello di traslocare lavoratori senza alcuna logica, mettendo così seriamente in discussioni le reali prospettive lavorative di Enimed in Sicilia. Nessun beneficio concreto ha trovato attuazione dell'Accordo Asso Mineraria Regione Sicilia per lo sviluppo e la coltivazione dei campi petroliferi in Sicilia e nessuna reale bonifica, esplorazione di nuovi giocimenti o manutenzione delle linee, viene portata avanti con costanza ma solo con l'emergenza del caso, ponendo come unica alternativa l'abbandono o la chiusura del sito. Inoltre, sottolinea la rappresentanza sindacale unitaria, nessuna prospettiva industriale è stata illustrata alla RSU per l'insedimento di attività complementari e di supporto di Enimed, porto e viabilità ed altro, mettendo seriamente a rischio le stesse attività di Enimed. Tutti i cittadini dei paesi dell'Unione Europea residenti a Gela potranno esercitare il diritto di voto per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e il diritto di elegibilità alla carica di consigliere comunale. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea residenti a Gela potranno inoltre conseguire l'eventuale nomina a componente della Giunta con esclusione della carica di Sindaco e di Vice Sindaco. I cittadini dell'Unione Europea residenti in città che intendono partecipare alle prossime elezioni dovranno presentare apposita domanda all'ufficio elettorale del Comune, entro e non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. Nella domanda per esercitare il diritto al voto, oltre all'indicazione dei dati anagrafici, dovranno essere indicati la cittadinanza, l'attuale residenza e l'indirizzo dello Stato d'origine, la richiesta di iscrizione all'anagrafe nella popolazione residente nel Comune e la richiesta nella lista elettorale aggiunta. Il Comune comunicherà tempestivamente l'esito della domanda presentata. In caso di accoglimento, gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l'indicazione del seggio nel quale recarsi a votare. I modelli di domanda sono disponibili sul sito www.comune.gela.cl.it e presso l'ufficio elettorale. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio elettorale appunto in via Donizetti al numero 5. Giornata di solidarietà alla casa di ospitalità Antonietta Aldisio di Gela. Il sindacato della Polizia di Stato ha donato dei cadeaux agli anziani che hanno accolto tutti con un sorriso. L'evento è stato organizzato in occasione dell'approssimarsi delle festività pasquali. Abbiamo voluto comunque scegliere un'associazione che ha queste fasce sociali che noi riteniamo importanti da attenzionare. Questo è anche uno stimolo per lanciare questo segnale alle istituzioni che possono comunque dare un loro contributo e far sì che questa associazione viva e perduri nel tempo per quello che è il loro compito e la loro finalità e quindi dare uno stimolo maggiore con la nostra attenzione. Sappiamo che gli anziani sono dei soggetti che vanno sempre aiutati e quindi a conclusione di quello che è un processo fisiologico, biologico c'è poi purtroppo si ritorna ad essere come dire fragili per molti aspetti e quindi come dicevo come ruolo istituzionale la Polizia di Stato già tantissime volte ha avuto delle iniziative per tutelarli e per accompagnarli in questo percorso. Oggi noi vogliamo veramente ribadire che queste fasce sociali non devono essere abbandonate, devono essere sempre attenzionate, e devono essere tutelate ulteriormente. Il nostro gesto è un gesto di solidarietà, è un gesto di fratellanza e quindi in questo senso vogliamo condividerlo con loro. Noi ci battiamo per avere l'opportunità di rendere un servizio sempre migliore alla cittadinanza e a queste fasce sociali e quindi oggi proprio come gesto simbolico di fratellanza vogliamo essere qui a testimoniare con loro che la Pasqua non deve essere soltanto un momento, cioè che deve essere passeggero in previsione poi di cadere nel dimenticatoio con un'iniziativa concreta, reale. Dottore Marino, una bella iniziativa davvero questa mattina alla Casa Antonietta al Disio che soffre la crisi come tutti noi sappiamo, a voi invece dedicate un momento di solidarietà e di condivisione. Sì, siamo voluti essere presenti come commissario di Polizia per elogiare l'iniziativa che appunto il sindacato del SIRP provinciale ha voluto dedicare nei confronti di una categoria a rischio come sono appunto gli anziani che noi tuteliamo assieme alle donne e ai minori in maniera particolare come Polizia di Stato e appunto voglio esternare il nostro compiacimento per questa bella iniziativa nella speranza che serva anche per intavolare ulteriori rapporti sia con le organizzazioni che si occupano di assistenza dall'anziani sia con gli enti preposti perché anche in questo settore a me si possono verificare dei reati come i maltrattamenti, gli abusi, i soppusi che purtroppo vuoi una smedia non per colpa vostra ma perché è diventata una materia molto molto attuale e cerchiamo così anche di fare osservazione soprattutto di metterci ancora di più a disposizione per alleviare le loro sofferenze. Ci rivediamo dopo la pubblicità. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo con il precetto pasquale che si è svolto al Tribunale di Gela alla presenza del Vescovo Monsignor Rosario Gisano. Sua Cellenza lei ha parlato di misericordia e anche di amicizia ricordando anche Falcone e Borsellino e ricordando agli Avvocati di essere appunto amici. Non è possibile poter amministrare la giustizia o meglio ancora per usare una parola meno tecnica ma più vicina poter fare dono della giustizia senza che ci sia amicizia tra coloro che effettivamente hanno questo delicatissimo e importantissimo servizio. La giustizia che deve essere riflesso della misericordia o meglio ancora di un giudizio obiettivo non può essere espressa se non attraverso persone che decidono di essere amiche, amiche vere, senza antagonismo, nel comune desiderio di rinunciare forse a qualcosa di proprio per raggiungere il contenuto della verità. La verità in fondo quella vera nasce proprio dalla capacità di rinunciare a se stessi. Il messaggio che si possa dare è quello di pensare che cosa vuol dire per noi cristiani credenti la Pasqua che è il passare oltre di Cristo. Nel giorno in cui praticamente lascerà l'incarico di Presidente ha ricevuto la visita di Sua Eccellenza Monsignor Gisana per gli auguri di Pasqua a questo nuovo Tribunale e all'Ordine degli Avvocati. Sì, è veramente una coincidenza che mi emoziona e mi esalta. Si vede che nella volontà di Dio questa coincidenza era stata già prevista e programmata. Vi assicuro che è stata assolutamente casuale perché l'iniziativa è stata fatta dall'Unione dei Giuristi Cattolici di Gela. È un momento molto importante per me, anche di riflessione su tutto quello che ho fatto in questi sette anni di Presidenza, le eventuali omissioni, anche risultati positivi che questo Tribunale ha raggiunto. Certo si è che oggi il Tribunale di Gela è un'istituzione a servizio della città con una certa efficienza ed efficacia. Il sole in fondo al cuore è il titolo del libro di Cinzia Nazareno che sarà presentato mercoledì 8 aprile prossima alle 18 nell'aula magna della scuola Luigi Capuana di Gela. Saranno presenti l'autrice e il dirigente scolastico Cetta Mongelli, Lidia Bertino, presidente del Soroptimist International Club di Gela, Lina Orlando della libreria Mondadori e Salvo Bonfirraro, editore. Modellerà i lavori Graziana Cannadoro, mentre Gabriella Spatola leggerà i brani del libro. Continua fino a lunedì 6 aprile prossimo il mercatino di Pasqua a Gela nel piazzale dell'Istituto Suor Teresa Valse di Macchitella. L'organizzazione è affidata alla Holiday Web, previste sagre, degustazioni, esposizioni, musica, arte e cultura. Sabato 4 aprile alle 21 è previsto lo spettacolo del cabarettista Giovanni Cangelosi. La tradizione popolare della Pasqua trova spazio negli scatti in bianco e nero e a colori del fotografo Melo Minnella. È la mostra fotografica Pasqua in Sicilia, in esposizione nel Museo regionale archeologico della città, fino al prossimo 4 maggio. Ottanta le foto che immortalano i momenti più rappresentativi della settimana che precede la resurrezione di Gesù Cristo, dove la devozione religiosa si fonde con una festa popolare dalle antichissime origini. In concomitanza con la settimana Santa a Caltanissetta ho pensato che potesse essere arricchita questa manifestazione culturale con una mostra di alto calibro culturale, quale è appunto il tema della Pasqua in Sicilia. In Sicilia abbiamo una varietà di feste nei vari giorni che è direi quasi unica al mondo. Io mi sono interessato della Pasqua non solo della Pasqua siciliana, ma anche di Pasque che si tengono in altri paesi del mondo. Ma sono momenti tipici, dicevo, dei vari paesi che variano da zona a zona. Appunto avevo accennato che la Pasqua siciliana è la più, direi la più pazza in generale, perché ci sono delle manifestazioni che si stenta a credere che possano essere delle rappresentazioni sacre. A precedere l'inaugurazione della mostra fotografica, la benedizione di padre Ghetano Calanella, arciprete della cattedrale di Caltanissetta, e canti polivocali tradizionali dei dieci lamentatori dell'arci confraternita del Santissimo Sacramento di Mussomeli, che con i loro lamenti hanno raccontato al pubblico in sala la passione e morte di Gesù Cristo. Gli scatti di Minnella però non ne ripercorrono soltanto le città siciliane di Calanissetta, Trapani, Marsala, Prizzi, San Fratello, Enna, Aidone, Polizzolo, Corleone, Collisano e Pietra Persia, ma assumono anche una dimensione documentaria che accompagna la scrittura dell'antropologo Antonino Buttitta, in due volumi, Pasqua in Sicilia, pubblicati nel 1983 e nel 2003. Siamo allo sport, il Gela Calcio è tornato nuovamente sul mercato giocatori, ieri pomeriggio infatti la dirigenza gelese ha tesserato il centrocampista Giacomo Pallone, 31 anni, proveniente dall'Orlandina in Serie D. Si tratta di un nuovo acquisto in vista dei play-off che la formazione bianca-azzurra affronterà nel torneo di promozione. Siamo all'informazione cinematografica, Black or White, il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella e Gela. Sono tre gli orari di rotazione della pellicola, 17.30, 19.30 e 21.30. Termina qui il nostro telegiornale, grazie per averci seguito fin qui, arrivederci a domani.